Ciao a tutti e bentornati. Nel tutorial di oggi vedremo come utilizzare OBS Ninja per importare all'interno della nostra produzione vMix degli ospiti e degli utenti da remoto. Per fare questo abbiamo bisogno di due strumenti. Io sto usando un laptop, avremo bisogno di un browser dove andare ad aprire la pagina di OBS Ninja e avremo bisogno di questo software, Vingester, del quale vi metterò il link nella descrizione di questo video, quindi qua sotto. Vingester ci permetterà di importare URL creati da OBS Ninja relativi ai nostri ospiti in vMix come fossero dei segnali NDI, quindi facendoci risparmiare notevoli risorse hardware sulla nostra macchina. Ok, innanzitutto andiamo a vedere la pagina di OBS Ninja. Digitiamo nel nostro URL obs.ninja e ci troveremo in questo sito con questa schermata. Vedete che abbiamo già quattro opzioni qua sopra, cliccando sul pulsante qui sotto, more options, se ne apriranno ulteriori. Vi consiglio assolutamente di andare a sfogliare la guida che è molto completa e ben fatta per avere tutte le informazioni complete riguardo OBS.ninja. A noi interessa in questo momento creare una stanza, quindi clicchiamo su create a room, diamo un nome a questa stanza, per esempio Fabio Call, enter rooms control center. Perfetto, qui è da dove gestiremo la nostra call con i nostri ospiti. Vedete che OBS Ninja ci propone già un'idea di come verranno visualizzati i quattro utenti una volta che verranno aggiunti. Per aggiungere abbiamo necessità, come per una vMix Call, di copiare il link che ci viene dato qui e inviarlo ai nostri ospiti via WhatsApp o via email, come preferiamo. Una volta che loro apriranno questo link verranno aggiunti all'interno delle finestre. Possiamo anche inserire una camera e un audio per la nostra produzione, di modo che i nostri ospiti possano relazionarsi con un regista in pratica. Per fare questo clicchiamo qui sotto, vedete che si aprono queste opzioni che possiamo aprire e chiudere tramite il pulsante dell'ingranaggio. Per mandare il video e l'audio a OBS Ninja io sto usando il webcam input, un tool NDI, di modo da prendere l'uscita program di vMix e acquisirla come NDI in OBS. Quindi nella sorgente video andrò a selezionare NewTek NDI video e come sorgente audio da linea NewTek NDI audio. Perfetto, vedete che è stata aggiunta il program di vMix qui sotto. Possiamo tramite gli altri pulsanti chiudere ovviamente la comunicazione, condividere lo schermo della nostra produzione, della nostra regia, chiudere la nostra camera, mutare l'audio, aprire o chiudere gli altoparlanti per la nostra call e aprire una chat di gruppo. Bene, adesso aggiungeremo alcuni ospiti e vedremo come importarli tramite Vingester come NDI all'interno della nostra produzione vMix. Bene, come vedete ci hanno raggiunto gli amici Stefania e Simone che possiamo vedere che abbiamo aggiunto in queste due finestre. Ovviamente quando ci si aggiungono degli ospiti si creano una serie di controlli addizionali sia per l'audio che per altre varie opzioni. Però come importare i nostri ospiti adesso all'interno di vMix. Come vi ho detto utilizzeremo Ingester per acquisire i segnali audio e video dei nostri ospiti via NDI. Quindi apriamo Ingester. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a inserire nell'URL che ci viene creato da OBS. Quindi copiamo il link e lo andiamo ad inserire nell'URL che ci interessa di Ingester. Ovviamente erano già inseriti. Possiamo dare un titolo utente1 che è quello che ci troveremo come identificativo dell'NDI e possiamo andare a impostare una serie di parametri. Se ora facciamo Start, vedete che cambia di colore e a questo punto in vMix possiamo tramite Add Input NDI, vedete che ci compare utente1, possiamo andare a caricare l'utente1 da OBS all'interno di vMix. Se la smettesse di giocare con i fondali sarebbe anche molto bello. Comunque, momento simpatia. Possiamo ovviamente andare ad attivare l'audio di Simone cliccando sul tasto Audio e andare ad impostarlo nella sezione dell'Audio Mixer su dove vogliamo poi farlo uscire. Quindi eventualmente possiamo attivare gli audio dei nostri ospiti e mandarli per esempio sul Master per continuare la registrazione. Se volessimo aggiungere un altro ospite per esempio copiamo il link dell'utente2 e su ingester andiamo ovviamente a incollarlo Start Perfetto e adesso sempre su vMix Add Input NDI Desktop Capture ci troveremo utente2 E voilà, vedete che il nostro secondo utente si aggiunge nella nostra produzione Per questo tutorial direi che è tutto. Abbiamo visto anche come utilizzare OBS come alternativa vMix. Se avete dei commenti lasciateli perché sono sempre estremamente utili così come i like e per continuare a ricevere le notifiche alle prossime guide e i tutorial che rilasceremo ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la notifica cliccando sulla campanella Vi ringrazio per averci seguito anche in questo tutorial e ci vediamo alla prossima. Ciao!